Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati qui su Pausa Caffè, parliamo come al solito di gossip e in questo caso di Vanessa Incontrata perché il suo cuore è nuovamente occupato. Quindi parliamo d'amore. Allora batte ancora per lo stesso uomo di prima, lo stesso identico spiccicato è sempre lui, per il suo compagno ovvero Rossano Laurini con cui ha vissuto ben 16 anni d'amore, di felice unione e poi c'è stata anche la figlia di mezzo, quindi la bellissima Isal. Una coppia che in qualche modo ha assaggiato cosa vuol dire la parola crisi, l'ha conosciuta bene. Una crisi aperta da lei e raccontata a modo suo dicendo Io sono in un momento di riflessione nella mia vita e questo mi sta aiutando a capire che cosa voglio dal mio futuro. Certo, non è che so dove mi porterà la mia trasformazione ma sto guardando avanti. Vorrei provare una nuova passione. La passione l'ha riportata lì, a casa, da lui, dalla sua famiglia. Rossano e io siamo insieme da tanto tempo e anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare, oggi dico che mi piacerebbe molto avere un altro figlio, vediamo che succede. Parole dette a Diletta Leotta, a chi si appresta a vivere per la prima volta la maternità. Ma che le cose tra i due siano rientrate, fa notare di più tv, si capisce anche dall'uso dei social dell'attrice e conduttrice spagnola. Vanessa ha ricominciato a pubblicare su Instagram, dopo aver smesso per un anno, una serie di foto che ritraggono lei, Rossano e Isal con accanto la scritta, Viamo Family. Se riuscisse nell'impresa di avere un altro bambino questa volta Vanessa non tornerebbe subito al lavoro come è invece successo in passato con Zelig, ho sempre avuto un forte istinto materno, ma la mia gravidanza non è stata facile. Vedremo. Sono però sicura che, comunque, oggi se avessi un figlio non tornerei subito al lavoro, come feci all'epoca rientrando presto a Zelig, ma prenderei più tempo per stare con lui. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.